Abbiamo qui una versione tratta da Deofficis di Cicerone, intitolata per lo più Rettitudine del Senato Romano. Sed ut laudandus regulus inconservando iure iurando, sic decem illi, quos poscannese spugnam iuratus a senato misi tanniva, se incastra redituros esse. Ea, quorum erat potitipeni, misi deri di mendis captivis impetravissen, si non redierunt vituperandi sunt. Dunque, è abbastanza complessa questa frase. Innanzitutto qui inizia un ut, dove troviamo laudandus regulus inconservando iure iurando. Qui, con l'ut, è necessario avere un verbo all'indicativo, al congiuntivo, per cui si deve ritenere che ci sia qualcosa di sottinteso. Andiamo avanti. Sed. Sic decem illi. Così. Notate sic ut. Non c'è ut sic, ma sic ut, non c'è sic ut, che sarebbe una consecutiva, ma un ut sic. Quindi, ci viene da ricordare, in questa successione, che probabilmente questa ut, questa proposizione retta da ut, è una comparativa. Così come. Decem illi. Poi qui inizia una proposizione relativa. Quos, pos, cannes, empugna, miurantus, atzenatum, misi, tannival. C'è poi un'infinitiva. Se incastra redituros esse, ea. Di nuovo una relativa. Quorum era potiti poeni. Poi c'è una condizionale. Quindi, molto probabilmente c'è un sun sottinteso, e la proposizione principale è Notate poi che ci sono due condizionali. Una è retta da vituperani, infatti ce l'ha vicino. Si, non redieront. Ma, così, quei dieci devono essere biasimati, si, non redieront, se non sono ricordati. Ma poi ce n'abbiamo un'altra condizionale, e vedremo a che cosa è attaccata. Quindi abbiamo due periodi ipotetici. Allora, secondo me, qui, c'è sottinteso est. Ma come deve essere lo dato regolo? Nel conservare il giuramento, ius, iurandum, vi ricordate, è il giuramento, si declinano separatamente, questo secondo iure, ius iuri, secondo la terza declinazione, e iurandum, secondo la seconda declinazione. In conservando è un gerundivo, dove, conservando, si trova nello stesso genere numero caso di iure e iurandum, e quindi iure e iurandum è il complemento oggetto. Il gerundivo si traduce con un infinito, nel conservare il giuramento, nel rispettare il giuramento. Così, quei dieci, che il soggetto della relativa è Annivale. Annivale mandò dove? Al senato, quando? Dopo la battaglia di Canne. Iuratos Iuratos sta con quos. Vedete che si concorda. Iuroas aviatumare è un verbo che ha il participio passato spesso con valore attivo. Allora, così, quei dieci che Annivale aveva mandato al senato dopo la battaglia di Canne dopo aver giurato. I dieci, quelli, non Annivale, perché si concorda con quos. Dopo aver giurato. Dopo aver giurato, che cosa? Se che loro sarebbero ritornati nell'accampamento, anzi, in Ea Castra, in quell'accampamento, notate che c'è un S sottinteso, Re di Turos, che sarebbero ritornati in quell'accampamento di cui i cartaginesi Pozior Potiris si erano impadroniti se non avessero ottenuto che cosa? C'è un gerundivo di nuovo di riscattare i prigionieri Captivis e il suo complemento oggetto. Mi pare che sia chiaro. Quindi, questo periodo ipotetico, questa condizionale, ha il suo periodo ipotetico in sé in Castra e di Turos, dovrebbe essere che loro sarebbero ritornati nell'accampamento, in quell'accampamento, eccetera, poi c'è la relativa, se non avessero ottenuto di rilasciare i prigionieri, se non avessero ottenuto che il senato rilasciasse i prigionieri. De Quibus non ho in nessuno modo, ma di questi non tutti allo stesso modo. Attenzione che De Quibus è un esso relativo, non potrebbe essere altrimenti. È come se ci fosse scritto sed de eis de is ma di questi ma su questi non tutti allo stesso modo. Dan Polibius bonus autors in primis e deis el nobilissimis quittum erant missi nove revertis e dicit re assenato non impertrata. Infatti mi pare che qui Polibius bonus autor è tutto al nominativo che Polibio infatti Polibio buon autore tra i primi tra gli altri cosa fa? Dunque dicit dice che cosa dice? Che nove erano ritornati ex decem nobilissimis tra dieci più che onesti no? nobilissimi quindi tirando via questa relativa infatti quittum erant missi noi abbiamo esdece nobilissimis nove revertis dice che questo è un partitivo che dieci dei più nobili fossero ritornati nove che tra i dieci dei più nobili fossero ritornati nove che allora erano stati mandati quindi tra i dieci più nobili che allora erano stati mandati dice che nuove erano ritornati re a senato non impetrate è un avlativo assoluto re soggetto impetrate la partitiva passata non ottenuta la cosa dal senato poiché non avevano ottenuto la cosa dal senato c'è ancora sottinteso un digit perché se no qui non abbiamo la proposizione principale vedete unum esdece qui paulo post qua mera te gressus e castris redisset qui redisset relativa paulo post qua mera degressus e castris è una temporale paulo post post quam c'è un post quam qui che è diviso ma potremmo anche metterlo così poco dopo poi sto vedendo che ho messo tutto nello stesso colore però non è così mettiamoci un sottolineiamolo questa è un'altra subordinata ancora quasi come se è una comparativa condizionale come se avesse dimenticato qualche cosa vediamo adesso vedete che in ogni modo rome remansisse è un'infinitiva non c'è una proposizione principale ci abbiamo unum esdece ma rome remansisse dice stiamo parlando sempre di questo autore polibio che uno tra i dieci si è rimasto a Roma uno che poco dopo che poco dopo che era uscito dall'accampamento ci era ritornato come se oblitus essi tali quindi avesse dimenticato qualcosa quindi costui uscito dall'accampamento ritorna e quindi in teoria avrebbe rispettato il giuramento fatto da Liva in teoria ci era ritornato quindi si ritiene questo furbo che però insomma stava salvando esclusivamente la sua vita dall'ira di Annibale costui dice io anche se il senato non vuole rilasciare i prigionieri io il giuramento l'ho osservato perché già prima ancora di arrivare al senato sono uscito dall'accampamento e ci sono ritornato spero che sia chiaro il concetto quindi dice quest'autore che uno dei dieci che poco dopo era ritornato nell'accampamento che dopo che era ritornato nell'accampamento dopo che era uscito dall'accampamento era ritornato quasi avesse dimenticato qualcosa si è rimasto a Roma notate tutti questi congiuntivi che sono congiuntivi per attrazione modale io le traduco in italiano con l'indicativo reddito elim incastra liberatum se esse iure iulando interpretamatur non rette dunque abbiamo una proposizione principale interpretamatur poi c'è un'infinitiva con il ritorno infatti nell'accampamento riteneva non giustamente non rettamente se liberatum esse che lui era stato liberato da che cosa complemento di separazione dal giuramento iureiulando fraus enim distringit non dissolvit per per iurium la frode la frode infatti peggiora non risolve uno spergiuro iureiulando dichiarativa vintus, attenzione che non è da vinco vincis vincere, vincere ma da vincio, cioè incatenato fosse portato dopo essere stato incatenato fosse portato da Nibale sed illud maximum ma quella cosa è la più grande ma questa cosa è ancora più grande mettiamo la più grande octo hominum milia tenebat Hannibal non quos inace cepisse dato cui pericolo mortis difugisse se quire lit in castes fuissent a paolo e tavarone consulebus allora questa è la principale, poi abbiamo una serie di relative quos, qui, qui con i loro tre verbi Hannibal è teneva otto mila uomini sarebbe otto migliaia di uomini non che aveva catturato in campo aperto o che erano fuggiti dal pericolo della morte ma che erano stati lasciati nell'accampamento da Paolo dai consuli Paolo e Varlone anche qui notate tutti i congiuntivi che però in italiano noi traduciamo con l'indicativo anche su questo andate a vedere se volete le mie regole congiuntivo al posto dell'indicativo e si deve fare riferimento alla regola sui congiuntivi tutte le possibilità di traduzione dei congiuntivi eos senatus non censuit redimendo sesse cumide parva pecunia fieri posset utesse tinsitum militibus nostris autvincer autemori senatus non censuit eos redimendo sesse il senato non ritenne che quelli dovessero essere riscattati qui mi pare che sia chiaro la principale non ci sono particelle subordinanti comincia di qui cumid parva pecunia fine reposse potendo accadere ciò parva pecunia con poco denaro qui abbiamo tradotto col gerundio io dico sempre di tradurlo letteralmente però quando il gerundio non esprime una subordinata causale o una subordinata temporale è necessario svolgerlo e qui direi non è né causale né temporale questa potrebbe essere una concessiva sebbene si potesse fare ciò con poco denaro cioè si potesse riscattare con poco denaro ut est institu militibus nostris affinché fosse ben presente nei nostri soldati o vincere o morire qui bisogna è un po' brutto bisogna evidentemente cambiarlo non so perché in latino non abbiano messo una perifrastica passiva aut vincendum est aut moriendum o vincendum esse aut moriendum esse vabbè o che si doveva vincere o che si doveva morire ci aggiungiamo noi un dovere considerandolo un dovere fraseologico di nuovo abbiamo un relativo assoluto non c'è dubbio re udita qua quindi un esso relativo in vero udita questa cosa scrive sempre quell'autore di cui abbiamo detto prima che l'animo di annibale frattum esse fu colpito e lo stesso scusatemi c'era espresso lo stesso scrittore di prima lo stesso scrive che l'animo di annibale era stato colpito quod poiché il senato di popolo romano in rebus afflictis in situazioni così drammatiche era stato di animo tanto nobile qui mi pare che non ci sia nessun problema io qui la vedrei una causale era stato colpito poiché non penso che questa sia una dichiarativa e poi ricordatevi questo idem che è il soggetto di scrivit che in un primo momento l'avevo perduto di vista ecco di nobile Grazie.